Continuano i mal di pancia nel Partito Democratico per come sono state scelte le candidature per le imminenti elezioni politiche. Lo conferma anche la riunione della segreteria regionale questa mattina a Napoli, nella quale il segretario provinciale salernitano Nicola Landolfi ha chiesto di poter avere la presenza di un componente della segreteria nazionale. Una richiesta che si inserisce nel botto a risposta a distanza con il segretario regionale del partito Enzo Amendola, che secondo Landolfi non garantirebbe la giusta imparzialità, perché anche egli candidato alla Camera nella circoscrizione Campania 2 è la stessa di Salerno. Sullo sfondo le polemiche sui cosiddetti paracadutati, chi alla fine non ha trovato una soluzione, come ha auspicato dall'Andolfi e dal sindaco del capoluogo salernitano De Luca. Nonostante una serie di lettere e dichiarazioni al vetriolo, alla consegna ufficiale delle liste nulla è cambiato. Al Senato quindi in Campania, tra i salernitani, mirano ad entrare a Palazzo Madama sicuramente Angelica Sagese, segretario generale del comune di Agerola, vicino a Vaccaro e nell'area Letta, quarta nella circoscrizione unica regionale. Davanti a lei la giornalista Rosaria Capaccione, Sergio Zavoli e Vincenzo Cuomo, undicesimo un'altra salernitana Rosanna Lamberti. Ben più nutrita è invece la pattuglia salernitana alla Camera. Dietro Enrico Letta, il segretario regionale Enzo Amendola e il deputato uscente Fuvio Bonavitacola, inseriti in lista con un posto utile anche Valiante, Iannuzzi e l'agropolese Capozzolo. In corsa anche Antonio Cuomo, dopo l'esclusione di Nicola Caputo, decisa dal PD per l'avviso di garanzia ricevuto dal consigliere regionale. Intanto il partito si prepara a schierare i big alla luce della crescente importanza rivestita dalla campagna e in particolare al Senato. Negli ultimi dieci giorni della campagna elettorale dovrebbe impegnarsi anche il segretario nazionale Pierluigi Bersani, che è annunciato a Salerno.